La vostra reazione se vi dicessimo che il prossimo avversario del Catania è rosso-blu e nelle sue fila milita un certo Lewandowski. Molti sarebbero rassegnati al peggio perché contro i Bayern i ross-azzurri non avrebbero certo molte chance, ma non è il caso di darsi per rassegnati visto che l'avversario di giornata non sono certo i temibili bavaresi di Guardiola, ma il meno attrezzato, ma non per questo sottovalutabile, Crotone di Massimo Drago e che il Lewandowski in questione, benché polacco pure lui, di mestiere, fa il portiere, peraltro, nemmeno titolare. Lasciando perdere le nobili analogie, il Crotone non è certo più la scheggia impazzita che appena un anno fa conquistò i play-off. I calabresi oggi sono il fanalino di coda della classifica e nelle ultime quattro giornate hanno conquistato tre sui dodici punti disponibili, frutto di una vittoria e tre sconfitte. Guai a sottovalutare gli uomini di Drago però, intanto perché sono distanti appena tre punti in graduatoria, anche se il Catania ha una gara in meno, ma soprattutto perché sono veramente capaci di tutto, sia di impensierire la capolista Carpi, di espugnare il Partenio, Casa dell'Avellino o il Dallara a Bologna, così come di perdere tra le mura amiche con la ben più modesta Provercelli. Il rendimento esterno dei calabresi è però paradossalmente migliore di quello rossazzurro. Alle due vittorie già citate vanno aggiunti i pari con Lanciano ed Entella per un totale di otto punti, contro i due di Calaio e compagni, uno dei quali maturato proprio nella trasferta all'uscita nel girone d'andata. I ragazzi di Drago danno l'idea di avere in qualche modo risentito delle euforie e delle aspettative che circondavano la squadra dopo la scorsa stagione. I frequenti blackout di concentrazione hanno portato anche a perdere gare che parevano incanalate per il verso giusto. La sconfitta casalinga contro il Bologna di sette giorni fa ha dato poi il via alla contestazione dei tifosi, critici soprattutto verso il mercato di riparazione condotto dalla società. Sembrerebbe quindi un avversario facile facile, ma il Catania di Marcolini è avvisato. I calabresi verranno al massimino col coltello fra i denti per strappare preziosi punti salvezza a quella che per ora è una loro avversaria diretta.